Mi chiamo Germana di Natale in arte Mulla. Mulla significa la luna in là. La luna in là, cioè il là, sarebbe la nota, quindi una luna che suona la nota là, per invitarci alla introspezione, cioè quindi guardare ciò che è fuori di noi nell'universo, e quindi capire che non siamo da soli e che comunque c'è un grandissimo universo intorno a noi che ci ispira delle cose molto spirituali. Quindi le mie canzoni sono comunque tutte molto incentrate alla riflessione, ma questo non vuol dire che siano troppo serie, nel senso nelle mie canzoni si parla d'amore, dell'amore terreno, si parla di pace, e comunque cosa voglio comunicare con questo mio video. Innanzitutto appunto io mi chiamo Germana di Natale, ho 59 anni, vivo a Trieste, Roma e spesso vengo in Sicilia. Diciamo sono cantautrice, quindi suono batteria tastiera e canto, quindi improvviso anche testi e poi io li eseguo, insomma, me la canto e me la suono. E cosa voglio dimostrare con questo video? Voglio dimostrare che nonostante passino gli anni, visto che io ho cominciato a suonare da bambina strumenti giocattolo che mi portava mio padre, che credeva molto nell'educazione in questo modo, nonostante questo io non ho mai mollato. Quindi è un invito innanzitutto a non mollare, perché di recente ho avuto dei grossi successi, ho fatto Sanremo Doc, con una mia canzone che si chiama Shanti, che invita alla pace, ho fatto Sanremo Music Awards, Donne d'autore, Castro Caro, ben tre selezioni. Quest'anno ho fatto il Master internazionale dello spettacolo e sono stata presa in accademia, ho fatto Rai 1, Ballando on the Road. Sono gli ultimi minuti di questo video, quindi incentro, diciamo, i miei sforzi nel dimostrare che non bisogna mollare, che anche le donne della mia età possono comunque raggiungere i loro scopi, perché è molto importante essere felici. Questo vuole anche dire mollare, guardiamo le stelle, guardiamo il cielo per imparare a essere felici. E poi ci sono tante cose da raccontare, stavo per diventare medico, ho lasciato perdere perché amo la musica, quindi ho trasferito la mia facoltà al Dams Musica, mi sono laureata in Dams Musica, ho dato lezioni private. E niente, adesso vi saluto perché sta per scadere il mio tempo. Ciao a tutti e mi trovate anche su Mulla Sol canale YouTube.